E' un sacco di tempo che non andiamo in live Sarà il mese d'agosto quindi il periodo in cui ci prepareremo appunto per l'uscita di Shadowkeep quindi del DLC di settembre Andiamo quindi a vedere quali sono tutte quante le novità In primis dal 2 al 4 avremo qua come ospite fantasticissimo ovvero che viene a casa mia su Aperugia Il Magic Fra con il quale volevamo fare un video Q&A Quindi mi raccomando sbizzarritevi qua sotto nei commenti di domande perché ci sarà dell'ignoranza Vedrete tutto quello che volete anno 1, anno 2, anno 3, anno 25 Vita nostra, vita di fra, infanzia, rapporti, vite, cose, quelle là Ecco chiedete tutto quello che volete perché ragazzi penso che verrà fuori qualcosa di abbastanza ignorante Dopodiché vi ricordo che il contest è ancora attivo Abbiamo la prima fase, stanno arrivando le clip quindi grazie a tutti quanti Controllate i post che abbiamo fatto poco tempo fa per vedere tutti i chiarimenti riguardo a tutte le domande che ci avete chiesto Il contest per chi non sapesse cosa sia lo trovate nelle scale si può vincere una versione di Shadowkeep a settembre E detto questo partecipate perché poi ci saranno tutte quante le sfide durante il mese di agosto che troverete su tutti i canali partecipanti Parlando invece delle novità di Destiny ci sarà ovviamente il testo degli eroi che inizierà il 30 luglio e finirà il 27 agosto Quindi in questo mese ci saranno cose da fare, spero cose interessanti ma ci saranno cose da fare Cercheremo di andare quasi sempre in live nel senso di fare almeno una live al giorno tra Twitch e Youtube Ovviamente preferendo Youtube perché Twitch come sapete con la connessione mi burla un pochino In conseguenza martedì sicuramente saremo in live quindi il 30 saremo in live il 30 è martedì spero non lo so non ho controllato comunque Il 30 quindi quando arriverà il sostizio saremo in live su Youtube non mancate In generale poi saremo in live quasi sempre come ho detto cercheremo di mantenere questa costanza Per quanto riguarda invece diciamo la fine di agosto e l'inizio di settembre abbiamo in mente un progetto veramente figo ragazzi Che richiede tanto tanto tempo avevamo in mente di pubblicare un montage Il problema è che questo progetto ci richiede veramente tanto tanto tempo e per non far sì che magari uno dei due Addirittura entrambi venga fatto male preferiamo concentrarsi su uno e magari lasciare il montage a più avanti Questo progetto figo ragazzi ci stiamo lavorando veramente tanto io spero che vi piacerà Spero che uscirà una cosa fatta per bene dovrebbe uscire nelle prime settimane di settembre Prima massimo seconda settimana di settembre dovrete averlo è un video veramente veramente figo Che ovviamente candideremo al move of the week quindi votate come dei forzennati E ovviamente poi il 18 settembre perché il 17 esce il DLC e dobbiamo iniziare a registrare Verranno pubblicati i primi tre episodi del walk route di Shadowkeep Sperando che quest'anno ci diano una storia perché col pass annuale ci hanno dato solo scoregge e quest Seguiteci mi raccomando quasi tutti i giorni live tra Twitch e YouTube Su Instagram per chi ovviamente ci segue su Instagram la metà di queste cose già le sapeva Quindi seguitici su Instagram perché è una cosa molto bella e magica E niente quindi detto questo vi chiedo semplicemente di iniziare a carburare in quest'ultimo mese Perché ragazzi ci prepariamo al Shadowkeep che sembrerà qualcosa di fantastico Poi col fatto che metteranno anche Destiny 2 Play avremo un sacco un sacco di nuova gente E i progetti saranno veramente tanti Così ragazzi detto questo io vi saluto Mi raccomando seguiteci in live e ci vediamo alla prossima Ciao Io sono Gaud E la tua luce È mia Grazie Grazie Grazie